Lega Ambiente elegge Teramo il capoluogo con il miglior ecosistema urbano dell'Abruzzo, ma non solo, Teramo è la prima città del centro-sud Italia dopo Matera ed è la terza a livello nazionale per la raccolta differenziata dei rifiuti. In totale Teramo si posiziona tra i primi 20 capoluoghi di provincia italiani per qualità della vita. Orgoglioso il sindaco Gian Guido D'Alberto che parla di resilienza, competitività e ripartenza. Devo ringraziare assolutamente tutti per il senso di rispetto, di attaccamento alla realtà urbana, alle realtà urbane del nostro territorio che ci consentono oggi di dare una lettura che vede Teramo come prima città in Abruzzo sotto il profilo della qualità della vita, prima realtà urbana, Teramo città capoluogo di provincia, quindi territorio provinciale, prima in Abruzzo, prima città del centro-sud, dato assolutamente importante a parte Matera che ha avuto ovviamente in questi anni l'onore di essere capitale italiana della cultura e soprattutto l'unica realtà abruzzese che si trova nella fascia 2, cioè una fascia che comunque dà una buona risposta sulla qualità della vita. Dobbiamo però cercare di spingere tutti affinché ci sia un miglioramento, purtroppo altre realtà abruzzesi fanno registrare una situazione diversa, ma dobbiamo insieme crescere anche attraverso politiche regionali che puntino molto sulla qualità della vita delle città, anche questo è un messaggio importante istituzionale. Ma che cos'è che ha fatto veramente la differenza? Sicuramente uno dei temi su cui si è cresciuto molto è quello relativo ad esempio alla raccolta dei rifiuti, insomma è un dato che poi abbiamo visto anche con l'aumento della differenziata e che ci ha portato ad essere nella top 10 italiana per l'ecosistema urbano e sicuramente sotto l'aspetto ambientale è il dato che più degli altri ha fatto registrare un incremento, ma anche sotto altri profili c'è stata una capacità di resistenza, di resilienza nella qualità della vita nonostante appunto le calamità che abbiamo vissuto, le ricostruzioni e soprattutto l'emergenza pandemica. Guardiamo al futuro però con una spinta maggiore, con fiducia e speranza e con la consapevolezza di essere una realtà competitiva, che nulla ha da invidiare ad altri. Tutti bei numeri per Teramo, dunque fissati dal rapporto ecosistema urbano 2021 di Lega Ambiente. Peccato per il calo demografico che però ha interessato l'intero Abruzzo. In nove anni c'è stato un decremento della popolazione di 42.000 persone. È come se un intero paese fosse scomparso.